Il sintomi delle malattie del gatto sono il primo segnale che un buon padrone deve sapere cogliere per poter far fronte a eventuali disturbi del nostro amico felino, ma quale con acento grave il comportamento del gatto malato? Le malattie che possono colpire il mizio e di conseguenza irrelativi i sintomi sono molteplici. In questa guida vi proponiamo un breve riassunto di che sono le patologie del gatto picomune e in seguito spieghiamo quali sono i loro sintomi e come cogliereli. Quali sono le principali malattie del gatto? Prima di adentrarci nella spiegazione dei sintomi delle malattie del gatto cominciamo con il chiarire di quali malattie stiamo parlando. Esistono infatti divertiti pidi malattie che possono colpire i nostri amici felini, malattie della pelle, della bocca, degli occhi e patologie infettive. Malattie della pelle del gatto le malattie della pelle del gatto colpiscono la chiud del nostro amico felino. Le cause di questo tipo di malattie possono essere le pida e versi, da un regime alimentare e inadeguato, allergie, infestazioni di parasiti, funghi, acari, batteri, ec, fino a malattie autoimmuni. Irrimedi per le malattie cutanee del gatto dipendono da la causa e devono essere prescriti dal veterinario. In caso di sintomi delle malattie del gatto dovuti ai parasiti, si cercherà di devellarle con antiparasitari locali o antifungini, mentre in caso di regime alimentare e inadeguato si dovrà provvedere e cambiarlo e, eventualmente, somministrare al micio degli integratori. Sempre sotto indicazione del veterinario, le allergie vengono diagnosticate tramite dieta per esclusione e test cutanei ed in questo caso e con acento grave sufficiente rimuovere la yegene per risolvere la situazione. Le malattie autoimmunia di espressione cutanea sono causate da un complesso meccanismo di attivazione degli anticorpi che atacano il corpo del gatto. La diagnosi è con acento grave complessa e solitamente vengono tratate col cortisone. Malattie della bocca del gatto le patologie della bocca del gatto, compreso il cavo orale, sono extremamente comune e rappresentano uno dei principali motivi di visita veterinaria. Che questi disturbi possono essere, semplici ulcere, dete anche afte, causate da calcivirus o malattie contra tenne il periodo neonatale. Punto e coma gengibiti, estomatite, infeccione della bocca, placca che causa tartaro e cativo alito. Malattie degli occhi del gatto le malattie degli occhi del gatto sono altrettanto diffuse. Si tratta di patologie che colpiscono questa parte anatomica del gatto extremamente delicata che può essere colpita directamente o. Presentare dei problemi legati a patologie pigravi. Tra le malattie direte ritroviamo, congiuntiviti, che possono avere un origine batterica o virale, ulcera della cornea, glaucoma. Punto e coma catarata, uveite, infiammazione dei uvea. Malattie infetive del gatto esistono, infine, delle malattie infetive del gatto conosciute edifius. Tra queste ritroviamo, la FIP, peritonite infetiva felina, la toxoplasmosi, la rinotraceite, la giardiosi, infeccione che colpisce, l'intestino tenue, la FEL, leucemia felina, la FIP, l'AIDS felina. Tutte che queste patologie, con diverso grado di gravità, origine e decorso, che colpiscono il gatto, devono essere tratate non appena scoperte. Naturalmente per le cure da metere in atto per le malattie gravi del gatto e con acento grave necessario rivolgersi al veterinario sia per la diagnosi. Contesta anticorpali che per le cure in caso di infezione e a che uto croniche. Patologie urinarie le malattie che colpiscono il apparato urinario sono molto comuni. Per la conformazione e anatomica ed atto che bebono relativamente poco, e gattine sono particolarmente soggeti. L'epidicius sono, cistite, infeccione della vescica, talvolta originata dal semplice stress o idiopaticace o e addirittura senza. Una causa specifica, calcoli urinari, deposito di cristalli e minerali nelle vie urinarie, insuficienza renale, acuta o cronica può avere diverse cause. Il tratamento di queste patologie varia a seconda della loro natura e causa, in generale vengono prescritti antibiotici e correcioni. Nella dieta mentre l'insuficienza renale prevede tratamenti molto lunghi a base di farmaci che rallentino il decorso della malattia. E mantengano i reni al rellindì funzionamento migliore possibile. Quali sono i sintomi delle malattie del gatto? Abbiamo finora elencato una serie di malattie che possono colpire il nostro gatto. Ma quali sono i sintomi delle malattie del gatto semizionon esta bene? 1. I sintomi nel cambio di abitudini per prima cosa dobbiamo fare attenzione ad un cambio delle abitudini alimentari. Se il gatto mostra un aumento dell'appetito o una sua diminuzione potrebbe avere un disturbo metabólico o, bisemplicemente, altre malattie a carattere. Pasegero che però clicca usano un minore apetito. E le inapetenza potrebbe anche essere il sintomo di un disturbo della bocca o dell'apparato digerente. Inoltre, anche se il gatto bebe di pi, o di meno, potrebbe voler dire che soffre di disturbi alle vie urinarie o di diabete. Se che sti segnali persistono un certo lasso di tempo e con acento grave opportuno rivolgersi al veterinario per scoprirne la causa e trovare la solucione al problema. 2. I sintomi delle malattie del gatto visibili sul pelo anche il pelo del gatto può dirzi molto sul suo stato di salute. Il micio è con acento grave notoriamente un animale molto pulito e se notiamo che il suo manto risulta essere trascurato e non lucido come al solito. Potrebbe voler dire che il nostro amico peloso soffre di qualche disturbo interno o di una malattia cutanea. 3. I sintomi di un gatto malattone la respirazione se il gatto respira afannosamente e rumorosamente, contrariamente al suo modo discreto. È silencioso, il gatto potrebbe soffrire di una patologia respiratoria. Atenzione però, in alcuni casi il gatto respira afannosamente per brevissimo tempo per nervosismo o excitazione, quindivisogna. Advertire il veterinario solo se il affanno persiste e se il respiro diventa difficoltoso. 4. Il gatto è con acento grave letargico potrebbe essere malato se il gatto dorme tanto, pi del solito, e appare, inoltre, apatico e inativo per pi. Giorni è con acento grave necessario consultare il veterinario perché il gatto potrebbe soffrire di obesità. Questa malattia, se non trattata, può portare anche allo sviluppo del diabete del gatto. 5. Il gatto cambia colore del gengibre con acento grave importante anche controlla respeso bocca e gengibre del gatto. Infatti quando il micio gode di una buona salute le sue gengibre el ambrasono di solito di un bel colore rosa chiaro, ma in caso di cativa salute la loro tinta può variare, risultano che halle se il micio a problemi alfegato, bluastre in caso di soco rosa in caso di febre o infeccione, a seconda dell'io stato di oxigenazione dei globuli rosi. Anche un alito da iodore troppo forte può destare il sospetto di malattia. 6. La tose trai sintomi del malattie del gatto anche la tose del gatto e con acento grave un segnal ed a tenere sotto controllo. Naturalmente se il gatto tosiste una volta ogni tanto o abisogno semplicemente di liberarsi da una pallina di pelo non queda preoccuparsi. 7. Se la tose persiste e si accompagna adaltri sintomi, letargia, mancanza di apetito, diarrea e potrebbe voler dire che il micio soffre di rinotraceite, bronchite o asma. 7. Diarrea e vomito trai sintomi del malattie del gatto se il gatto soffre di vomito e diarrea potrebbe soffrire di diverse patologie. Per questo motivo nel caso in cui il gatto soffre di una di queste due manifestazione e con acento grave necessario rivolgersi al veterinario al fine. Di poter sconjurar l'eventualità che il gatto soffre di svariate patologie, tra cui quelle intestinali o infetive. 8. Naso asciutto nel gatto di norma il naso del gatto e con acento grave quasi sempre umido e per questo motivo si pensa che se il micio a il naso seco e asciutto potrebbe soffrire di qualche disturbo. In realtà ciò e con acento grave vero solo in parte bisogna tener conto infatti di tutta una serie di fattori prima di allarmarsi, se il naso seco e con acento grave accompagnato da altre manifestazioni e di male essere contattare il veterinario, se invece il gatto a il solito comportamento e non da altre segni di sofferenza non che da preoccuparsi. 9. Il gatto si lecca excesivamente anchese e il gatto si lecca molto forse che qualcosa che non va, il leccarsi continuo può essere indice di un forte stress o di una patologia diversa, solitamente di natura allergica. 10. Il fatto di utilizzare la lingua per pulirsi e con acento grave un modo normale per mantenere una correta higiene, ma quando questo diventa convulsivo. 11. Il gatto potrebbe essere molto nervoso o aver sviluppato l'intolleranza a qualche alimento. 10. Il gatto è con acento grave agresivo infine, anchese il micio e con acento grave troppo agresivo potrebbe essere uno dei sintomi delle malattie del gatto. Il micio è con acento grave un animale instintivo e quando questa male tende a isolarsi e nascondersi, per questo motivo se cerchiamo di avvicinarlo può diventare hostile proprio perché non vuole essere toccato a causa di un forte dolore. In questo caso si consiglia di rivolgersi al veterinario per effettuare un bilancio dell'io stato di salute del gatto. Articolo revisionato da Francesco Reina Asistente Veterinario Articolo Reina Asistente Veterinario